Prima vorrei fare una considerazione molto semplice e cioè questa, gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti crescono da sempre, non c'è mai stato un anno in cui siano diminuiti, c'è una crescita continua e ci mancherebbe altro perché la professione ha bisogno di rinfrescarsi continuamente. Però nell'ultimo anno e negli ultimi anni c'è effettivamente una tendenza al rallentamento del tasso di crescita degli iscritti all'albo. Ora questo è un punto di domanda, cioè se deve farci preoccupare o meno io non lo so ancora, aspetterei ancora qualche anno per vedere che cosa succede e soprattutto cercherei di guardare più dati, infatti questo è un po' il compito che vorrei fare stamattina, mettere insieme più dati. I dati ovviamente ci pongono domande più che darci risposte e quindi io, il mio mestiere è di raccogliere dati, di elaborarli e di diffonderli e la maggior parte dei dati che vedremo sono infatti il frutto dei rapporti statistici che ogni anno la fondazione pubblica, ormai quest'anno siamo arrivati al decimo, quindi abbiamo pubblicato il decimo rapporto statistico perché in effetti siamo nel decimo anno dell'albo unico e il rapporto statistico è iniziato con l'albo unico. Le nostre statistiche, i nostri dati iniziano tutti dal 2008, tutto quello che è successo prima del 2008 lo lasciamo alla storia. E faremo dopo comunque, faremo un bel escluso storico dopo il break. E quindi cerchiamo di guardare questi dati. Ancora prima di vedere i dati però vorrei fare un'altra riflessione che poi ci verrà utile più avanti quando vedremo i dati e cioè noi veniamo da una crisi economica molto violenta. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo vissuto tutti e oggi lo possiamo dire in un certo modo perché sembra che questa crisi si stia dileguando. Così ci dicono. Così ci dicono. I dati che arrivano, i dati economici che arrivano ormai già da diversi mesi sono tutti orientati in questa linea di tendenza, cioè in una ripresa dell'economia che ovviamente in Europa è più lenta che in America, in Italia è più lenta che in Europa, però è evidente che i dati vanno in questa direzione per cui la ripresa c'è e in atto e su questo non ci sono dubbi. Però la crisi è stata violenta, la crisi non è stata solo di tipo congiunturale, anzi è stata soprattutto una crisi di tipo strutturale che ha colpito profondamente la competitività del sistema economico e il sistema produttivo in particolare ed è una crisi che in qualche modo deve fare i conti con la globalizzazione, con le nuove tecnologie, con la rivoluzione digitale e qui veniamo al punto dolente che riguarda un po' la situazione della nostra professione. Perché quando parliamo di digitalizzazione ci chiediamo giustamente se e come cambierà la professione di commercialista e che impatto questo possa avere anche numericamente, perciò lo sto dicendo adesso prima di vedere i numeri, sulla professione. Ovviamente molto dipende dal modo in cui la digitalizzazione trasformerà il prodotto servizio offerto dal dottore commercialista. Perché nella misura in cui la digitalizzazione standardizza il prodotto servizio, facendolo sempre più diventare una commodity, è ovvio che questo avrà un impatto violento sulla professione. Se questo succederà con l'introduzione della fatturazione elettronica non lo sappiamo ancora con certezza, però è evidente che succederà. Noi l'anno scorso, due anni fa, nel 2015, abbiamo fatto un'indagine, un sondaggio, proprio perché il tema era diventato ormai già importante, chiedendo ai commercialisti se loro temevano che questo potesse essere una minaccia, un rischio per la professione. La maggior parte delle risposte sono state nel senso di no, non temiamo di perdere clientela, non temiamo che questo possa stravolgere la nostra professione. Per cui chi ha risposto si è mantenuto in una posizione di ottimismo rispetto a se stesso e soprattutto di non prefigurarsi questa minaccia, però allo stesso tempo ha manifestato grande preoccupazione per la possibilità che il mercato possa essere invaso da altri competitor, non solo tradizionali, ma soprattutto nuovi, grazie ovviamente alla possibilità di gestire dei prodotti più standardizzati, sfruttando le economie di scala. Mi viene da dire, tornando anche un po' a quello che dicevamo durante la tavola rotonda, chi poi sarà capace di usufruire di questi prodotti avrà sicuramente un vantaggio competitivo rispetto magari a chi questi prodotti li rifiuta. Certo, questo è il pericolo, è il rischio forte che dobbiamo leggere anche alla luce dei numeri che adesso vedremo. Allora, vediamoli insieme. Per cui, e chiudo questa premessa, che mi rendo conto già il tempo vola, quindi dobbiamo andare avanti. Va bene, ma siamo qua per riflettere, non vogliamo... No, no, chiudo questa premessa. Non devo lanciare la pubblicità, quindi abbiamo tempo per pensare. Dicendo che la preoccupazione che io ho notato attraverso la lettura di questi dati, di questa indagine, che tra l'altro è pubblicata, come tutte le indagini della Fondazione Nazionale dei Specialisti sul sito, per cui sono disponibili per chiunque, è che la difficoltà maggiore la si percepisce dal punto di vista dell'organizzazione. E cioè, oggi la possibilità alternativa allo studio individuale è l'associazione professionale, l'aggregazione, diciamo, delle sue forme di associazione, di condivisione, di società tra professionisti. Però è evidente che chi si interroga su questo fa fatica ancora a inquadrare bene la forma organizzativa moderna, evoluta, per rispondere a questa problematica. E lo vedremo meglio poi anche più avanti. Allora, adesso andiamo a vedere un po', partiamo dai dati degli iscritti all'albo. E questo era per farvi vedere il processo in atto dal 2008. Questi sono i tassi di crescita annuali. Quindi non i numeri in totale, ma i tassi di crescita. Sono i tassi di crescita annuali. Nell'ultimo anno siamo scesi allo 0,5%. Quindi siamo in una progressiva fase di rallentamento del tasso di crescita. È un trend che dura da sette anni, insomma, no? Certo, ormai, sì. Soprattutto preoccupa nell'ultimo anno. I dati ovviamente sono relativi al 2016. Il 2017 perché sono fermi al primo gennaio. Qui possiamo vedere meglio la movimentazione dell'albo. Perché qui vediamo i neo iscritti, non semplicemente il tasso di crescita degli iscritti. Vediamo i neo iscritti, cioè il colore blu. E vediamo come nell'ultimo anno ci sia stato un calo forte dei neo iscritti. Poi abbiamo i cancellati e quindi abbiamo l'aumento degli iscritti come differenza tra i neo iscritti e i cancellati. Quindi è evidente che c'è un calo. C'è anche un tasso di crescita, però, di quelli che si cancellano, forse d'eccezione dell'ultimo anno. Sì, sì, dei cancellati. No, ma i cancellati sono più o meno costanti tranne nell'ultimo anno. Quindi è evidente anche da qui, dai neo iscritti, che c'è un calo. Uno sguardo veloce alle altre professioni, cugine, diciamo. Per avere un'idea un po' del trend, gli avvocati sono cresciuti nel periodo 2007-2017 del 32%. Cioè negli ultimi dieci anni gli avvocati hanno avuto una crescita del 32%, i consulenti del lavoro del 19%, i commercialisti del 97%. Quindi da questo punto di vista la crescita c'è stata, ma è stata inferiore a quella delle professioni cugine, a parte i notai che sono ovviamente un'eccezione. Per quanto riguarda i praticanti, e quindi veniamo un po' anche a toccare il problema dei giovani, noi abbiamo pubblicato negli ultimi anni dei dati molto scioccanti, cioè numeri assoluti dei praticanti in calo continuo, verticale. Questi sono i tassi di crescita, molto strani. Devo dire la verità, è difficile misurare correttamente i praticanti, perché non esiste una procedura di elevazione. Per cui noi mandiamo dei questionari agli ordini e li rileviamo al 1 gennaio, il 31 dicembre. Questo ovviamente non ci permette di vedere il movimento del registro dei praticanti, che è molto più corposo rispetto a quello dell'albo, per cui abbiamo tante iscrizioni durante l'anno e tante cancellazioni per compiuto tirocinio. Sarebbero questi dati più interessanti da vedere. Però è chiaro che c'è un calo, c'è un calo fortissimo. Lo vediamo ancora meglio da qui. Su 117.916 iscritti all'albo, ci sono 13.519 praticanti iscritti al registro dei praticanti, in quel preciso momento, che è il 1 gennaio 2017. Cioè 0,1 praticanti per ogni commercialista. Ma prima di tirare una conclusione su questo tema, vorrei farvi vedere anche il numero degli abilitati agli esami di Stato, che è un dato forse ancora più significativo di quello dei praticanti. Perché? Perché ovviamente chi si abilita è uno che ha fatto il praticantato. I numeri sono questi, cioè abbiamo avuto un picco tra il 2006 e il 2007 e poi lentamente un calo, però stiamo parlando comunque di numeri che sono superiori alle 3.000 unità. Quindi non tutti quelli che finiscono il praticantato, fanno il praticantato e poi proseguono nella professione? Non tutti, ma la maggior parte, perché se abbiamo visto prima i neoscritti si mantengono quasi sotto i 3.000. Quindi c'è una, mi pare che lo vediamo anche nella slide successiva, ecco, gli abilitati e i neoscritti. C'è sempre stata un po' di differenza che negli ultimi anni tende ad assottigliarsi per il calo degli abilitati. Abbiamo parlato molto di ecocompensi e di tariffe qua, quindi invece i dati sui redditi cosa indicano? Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo subito, però prima di arrivare ai dati sui redditi, proprio a proposito di redditi, vediamo prima i dati sugli iscritti alle casse di previdenza. Noi come Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ormai da non 10 ma 8 anni, perché abbiamo iniziato un paio d'anni dopo, prendiamo i dati delle singole casse di previdenza e facciamo la media. Per cui ovviamente l'avvertenza è che questi non sono dati riferibili all'uno o all'altra cassa, ma sono dei dati medi, cioè diciamo anche astratti, non immediatamente riferibili a realtà concrete. Però secondo noi danno un'idea precisa del trend generale in atto. Allora, innanzitutto gli iscritti alle casse di previdenza sono anch'essi in calo nell'ultimo anno, ma hanno presentato dei tassi di crescita abbastanza elevati negli anni precedenti. L'andamento è piuttosto discontinuo, ma la cosa più interessante da osservare è il rapporto tra gli iscritti alle casse e gli iscritti all'albo, che nell'ultimo anno è pari all'81%. C'è una differenza di circa 20.000 unità, annetto anche degli iscritti all'elenco speciale, che è abbastanza grossa, abbastanza significativa, ma che si sta riducendo di anno in anno. Perché? Perché all'inizio era molto più alta. Lì non abbiamo il dato iniziale del 2008, era il 71%. Quindi il divario era molto più alto, si va restringendo. C'è un aumento del tasso di esercizio della professione rispetto a chi si iscrive all'albo, rispetto a chi si iscrive alla cassa. Ovviamente questo dipende dal fatto che ci si può iscrivere all'albo senza aprire la partita IVA, e quindi senza essere obbligato a iscriversi a una cassa di previdenza, o anche al fatto che qualcuno possa essere iscritto ad altre casse, ma è un fenomeno, ad altre gestioni, ma è un fenomeno abbastanza limitato. Vado veloce perché il tempo vola. Qui, semplicemente per aggiungervi un dato, cioè il dato Entratel, gli intermediari abilitati al servizio Entratel come dottori commercialisti e esperti contabili. È un dato che si avvicina molto a quello degli iscritti alle casse, a dimostrazione che questo è il dato reale di commercialisti attivi, cioè diciamo 95.000 circa sono i commercialisti attivi rispetto ai 118.000 iscritti all'albo. Quindi sono entrate singole quelle, ovviamente. Beh, questa era una slide per scomporre il dato Entratel, ma soprattutto per farvi vedere, anche se sono scritte in bianco che non si leggono bene, che oltre ai dottori commercialisti e ragionieri e esperti contabili, ancora così sono registrati nelle statistiche Entratel, ci sono anche le associazioni professionali e le società di servizi, che nell'analisi dei flussi Entratel io praticamente ho considerato insieme. E a questo proposito vorrei darvi questo dato che non ho esposto nelle slide molto velocemente, che i commercialisti abilitati Entratel nel 1999, cioè all'inizio in effetti del periodo, erano il 76% del totale degli abilitati e trasmettevano il 24% dei flussi documentali. Nell'ultimo anno, 2016, i commercialisti, il rapporto al totale, sono il 42%, sono molto diminuiti perché molti altri sono gli intermediari nel fratto di tutti questi anni che hanno ricevuto la possibilità di abilitarsi, i flussi documentali trasmessi sono saliti al 45%. Quindi meno commercialisti, più documenti. Esatto, con un incremento notevole della media, che adesso è pari a 632 documenti. Questo è un dato che preoccupa. No, è un dato che preoccupa, è un dato che mostra, secondo me, insieme a quell'altro dato relativo ai, alla quota di mercato, tra virgolette, che i commercialisti hanno rispetto agli altri concorrenti nella trasmissione dei modelli dichiarativi, che sono secondo me il dato più importante e significativo per apprendere il posizionamento in termini proprio numerici, basta pensare che se consideriamo solo il modello delle società di capitali, raggiungiamo la quota dell'83%. Questo vuol dire che presidiamo in maniera, non dico completa, ma massiccia il campo, con dei numeri altissimi, che poi naturalmente possono essere letti in tanti altri modi. Il rapporto abitanti-iscritti è in costante calo, perché la popolazione cresce pochissimo e gli iscritti all'albo crescono in misura notualmente superiore. Qui anche per avere un dato relativo al Triveneto. Il Triveneto, considerando nel suo complesso, ha un rapporto abitanti-iscritti più alto, a significare una minore concentrazione sul territorio e quindi un mercato meno denso. Ovviamente questo è un dato positivo per il Triveneto rispetto a altre aree, per esempio come il Sud, dove il dato è molto diverso, però è in calo maggiore, perché c'è una dinamica di crescita degli iscritti all'albo un po' più elevata. Questo vuol dire che il rapporto si assottiglia, che il numero di abitanti per ogni singolo commercialista si assottiglia di più nel Triveneto. Infatti la differenza rispetto al dato medio nazionale, che era 164 in più nel 2008, è scesa a 125 in più. Un altro dato relativo al Triveneto, qui vediamo semplicemente i tassi di crescita, che nel Triveneto sono stati più alti rispetto alla media nazionale in tutto il periodo. Stiamo paragonando adesso la situazione nazionale a quella del Triveneto. Di fatto il Triveneto in questo periodo ha cresciuto leggermente la sua quota sul totale iscritti, che è passata dal 9,2% al 9,6%, proprio perché ha mostrato una dinamica superiore rispetto alla media nazionale. Non ho riportato nelle slide un altro dato che però vi devo dare perché è molto importante, cioè le imprese attive sono diminuite, anche quelle in pro quota ai commercialisti, passando a livello nazionale da 50 a 44, ma nel Triveneto sono passate da 68 a 56. Quindi anche qui vediamo come il numero di imprese attive, questi sono dati medi, indicatori di concentrazione per capire un po' i rapporti e le quote di mercato. Se in Italia abbiamo 44 imprese per ogni commercialista, nel Triveneto ne abbiamo 56. E in particolare nel Triveneto abbiamo un incremento, anche se molto lieve, di società di capitali per singolo commercialista. Voi sapete bene che nell'ultimo decennio le società di capitali sono aumentate in misura considerevole, rispetto per esempio alle società di persone e questo è un dato molto interessante perché contrasta con il dato sulla popolazione e fa capire come il mercato è ancora un mercato abbastanza denso. Ecco i redditi. Questi sono i redditi, li vediamo molto velocemente, questa è la dinamica dell'IRPEF nominale e dell'IRPEF reale, la linea verde in particolare è sempre negativa, tranne l'ultimo anno, il 2015 che è l'ultimo anno per il quale noi disponiamo di dati perché sono relativi alle dichiarazioni 2016, anno d'imposta 2015, quest'anno raccoglieremo, cioè l'anno prossimo raccoglieremo quelle del 2017 e il 2015 in linea con il PIL nazionale che ha avuto una ripresa è aumentato. Ma la cosa interessante da vedere è questa, cioè il tasso di crescita del PIL nominale e dell'IRPEF, cioè del reddito medio dei commercialisti, vedete che segue il ciclo, qui ci sarebbe un discorso da aprire sul fatto che la professione di commercialista presenti aspetti anticiclici oppure no. Io vedendo anche questo grafico sostengo che non è anticiclico, è evidente che segue il PIL. La cosa andrebbe vista anche dal punto di vista del posizionamento di mercato e della professione rispetto ai servizi contabili e fiscali che hanno ovviamente la quota più rilevante ed essendo quelli sottoposti al ciclo è evidente. Sarebbe un discorso lungo, mi dispiace non poterlo affrontare nei dettagli. Però ricordiamo che questa ricerca è anche disponibile sul sito dell'associazione, quindi chi volesse poi... Sono varie ricerche, qui sono dati presi da varie ricerche, però sono tutte presenti sul sito. Questi sono i redditi medi, questi sono i redditi medi. Siamo arrivati nell'ultimo anno, cioè il 2015, a 58.602, meno 2,1% rispetto al 2007. C'è un calo incredibile nel 2008. Nel 2008 avevamo raggiunto il picco massimo, siamo molto lontani da quel livello, ma siamo lontani anche dal 2011, dove avevamo ripreso abbastanza bene. Le statistiche reddituali delle altre professioni, per avere un'idea, abbiamo fatto prima. A livello generale il dato ADEP, quello arancione, è meno 20%. Questo è sempre il periodo dal 2007. Rispetto a quel dato, noi abbiamo un calo nelle professioni giuridiche molto marcato, meno 29%. Se lo leggiamo con l'incremento degli avvocati, ci rendiamo conto di come nell'avvocatura il problema sia abbastanza sentito, avvertito e drammatico. Questo spiega anche perché loro sono già molto avanti sul tema dell'equo compenso. È un'emergenza, diciamo. Mentre invece, nel caso delle professioni economico-sociali, dove è compresa anche la professione di commercialista, parliamo di un meno 1,5%. Nel caso invece delle professioni tecniche, anche lì vediamo numeri molto grossi. Cioè architetti, ingegneri, hanno subito anche loro delle conseguenze molto negative. Poi c'è l'area sanitaria, che invece è positiva, ma prevalentemente è un'area che dipende prevalentemente da lavoro dipendente. Questo è un po' un'area a parte, dove è stato molto più facile mantenere i redditi. Noi abbiamo fatto anche uno studio tra i redditi dei lavori dipendenti e i redditi dei lavoratori autonomi, che abbiamo pubblicato, dal quale si vede molto chiaramente come nel periodo della crisi il lavoratore dipendente ha protetto la propria situazione in maniera relativamente facile, godendo anche di un'inflazione negli ultimi anni molto bassa rispetto al lavoro autonomo, che ha subito perdite considerevoli. Va bene, abbiamo ancora tempo per un paio di slides. Come si dividono gli studi in base ai servizi che forniscono? Allora, qui entriamo nel tema della organizzazione e della specializzazione della professione, che naturalmente sarebbe un tema da affrontare avendo davanti una bella oretta e non un minuto. Per cui alcuni dati flash. Qui vediamo la percentuale di studi associati. Tutti questi dati qui sono dati relativi all'indagine statistica 2012, che ad oggi è l'ultima indagine statistica compiuta, effettuata. Contiamo di farne un'altra tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, in modo da aggiornare questi dati. Qui vediamo come la percentuale di associati nel nord-est sia la più alta rispetto alle altre aree del paese e soprattutto rispetto alla media nazionale. Vediamo prima i dati, poi facciamo una breve riflessione finale. Anche la percentuale di studi grandi, cioè studi con più di 10 addetti, è più alta al nord che al sud, anche se in questo caso il nord-ovest ha un... Queste sono percentuali, quindi ha un livello un po' più alto rispetto al nord-est, ma è evidente che c'è una frammentazione nord-sud molto forte, che ovviamente io non vi ho fatto vedere i dati sui redditi, se vediamo i dati sui redditi no, c'è un divario dal Trentino alla Calabria che supera il 5 a 1 sostanzialmente, quindi divari molto grossi. Ecco, per quanto riguarda il tema della specializzazione... Era interessante per... Ora, noi non abbiamo ancora individuato un modello di specializzazione preciso, ne probabilmente conviene definire un modello di specializzazione, perché il campo è ancora aperto, è necessario ancora compiere molti studi. E anche la discussione. C'è una carenza di studi a livello nazionale sul tema modelli di specializzazione nella professione del commercialista, o se volete business model, anche se quest'area, cioè l'area del Triveneto e del Veneto, mi sembra essere quella che è più avanti negli studi su questo tema, bisognerebbe però sicuramente fare qualcosa in più. Allora, io a questo punto ho due slide, questa è un'altra, per farvi vedere solo qualcosa, cioè... Queste sono le aree di specializzazione, cioè questa... La domanda che sta dietro a questi dati è in base ai tuoi studi, al tuo percorso formativo... Quali sono le aree? Dove ti sei specializzato? Ora, questo è il confronto tra Italia e il Nord-Est. Ovviamente nel Nord-Est c'è anche l'Emilia-Romagna, quindi c'è una differenza tra la definizione Triveneto e Nord-Est, perché noi seguiamo le categorie Istat. Vedete che a parte il contenzioso tributario, dove la percentuale è leggermente più bassa, ci sono queste aree dove la percentuale è più alta, perciò le ho messe nella slide, cioè diritto societario, fallimentare, controllo di gestione e fiscalità internazionale. Ma è soprattutto l'area diritto societario che mostra, vuol dire, una maggiore propensione alla specializzazione in quest'area. Invece, questo è un'altra slide, dove la domanda che c'è dietro è, nell'ultimo anno, in quali di questi campi hai fatto delle consulenze specialistiche, quindi non dove ti senti più esperto, ma dove realmente hai fornito servizi fatturati. E qui non ho messo i numeri, ma semplicemente un modo per vedere i dati, quelli del Nord-Est sono arancioni, se vedo bene qui i colori a distanza, sono indicate le aree dove appunto il Nord-Est supera la media nazionale. E in particolare, come vedete, sono le aree della consulenza aziendale, della consulenza societaria, delle operazioni straordinarie, costituzioni di società, consulenza contrattuale, amministrazione di aziende. Cosa posso dire a chiusura? Volevo dire molte più cose, però sintetizzo in maniera molto estrema e molto rapida. Qui nel Triveneto il punto di osservazione è molto interessante, perché si vede che c'è un modello di specializzazione reale della professione più avanzato, nel senso che io parto sempre dal modello, che lo chiamo il modello BIC, cioè base, incarichi, consulenza. Per me il fatturato, per fare delle riflessioni semplici e veloci, il fatturato della categoria si divide in attività di base, incarichi professionali e consulenza specialistica. Questo nell'ultima rilevazione era 60, 25, 15. Secondo alcuni, quindi 60, 40. Secondo alcuni è 70, 30. Ora, se noi consideriamo che l'attività di base pesa in una maniera così eccessiva, ricollegandomi a quello che ho detto all'inizio, e se noi vediamo che stiamo andando verso una standardizzazione, quindi una commoditizzazione spinta dei servizi di base, è ovvio che quei servizi sono maggiormente aggredibili da chi fa economie di scala, e quindi è ovvio che noi lì abbiamo una minaccia molto seria. Ma questo riguarda la fascia bassa del mercato. Se noi segmentiamo il mercato in fascia bassa, media e alta, vediamo come la fascia bassa è dove la minaccia è più alta, ma è anche quella fascia dove noi forniamo meno servizi di incarichi e consulenza specialistica. Probabilmente lì il rapporto sarà 90-10. Nella fascia media, dove invece siamo più presenti, e cioè PMI, PMI dinamiche, PMI veloci, PMI competitive, PMI che hanno un fabbisogno nuovo di consulenza più avanzata, lì noi abbiamo la possibilità di incrementare moltissimo la fascia a maggior valore aggiunto. E lì dobbiamo organizzarci per presidiare il mercato e per conquistarlo ancora. La fascia alta è quella invece dove evidentemente siamo ancora poco presenti, perché è dominata dalle società di revisione, da altre organizzazioni. Se noi cominciamo a fare un po' di analisi strategica del tipo di quella che io velocemente in due battute ho accennato adesso, probabilmente riusciamo anche a gestire meglio il processo di transizione al modello dell'especializzazione. Certo, grazie. Allora ringraziamo Tommaso Di Nardo con un applauso.